Felix, sono due ore e trentacinque che sei in orbita. Cosa hai deciso? Ok, me butto. Check-in del lancio. Campo base, mi sono accorto che ho con me le chiavi di casa. Me sa che mi moglie è rimasta fuori. È un'altra delle tue scuse, Felix? No, Roger, che c'entra, dai. Allora che fai, non ti lanci? Preferirei di no. Poi base da qua su, ho visto che ho la macchina in doppia fila. Potreste controllare se passano gli ausiliari? Ma basta con queste scuse, Felix. Su, lanciati, dai. Roger, però me lo potevi dire che era così alto qua, eh? Ah, Felix, ma qui mica stavo a mirarbilandia. Buttate su. Oh, signore, chi mi ha fatto qua? Oh, oh, base, ho visto sul display che fra dieci minuti sono pronti su play. Sì, e fra dieci minuti è pronta pure la bruschetta. Non mi fare perdere tempo, Felix, su. Che qua siamo in diretta mondiale, devi essere il primo uomo a rompere la barriera del suono. Contaci. Che fai, premi, anche per i fondelli? Roger, ultimamente si è diventato molto acido. Poi, se riesco a scendere, ne riparliamo a terra. Aia. Però non adesso, perché francamente me lo sto facendo addosso. Guarda che stai facendo la figura del fifone con tutto il mondo, eh? Senti, io me so stufato. Fammi fare uno squillamir come me viene a prende, va. Oh, ma qua su non c'è campo? Certo, me state proprio a rimaccontro, eh. Senti, io me so stufato.